Cos'è l'addizione? L'addizione è legata all'idea di mettere assieme due gruppi di oggetti e poi contare quanti sono in tutto. Si indica con il simbolo più. I suoi termini si chiamano addendi e il risultato somma. Esempio. 5 più 3 uguale 8. Quali sono le proprietà dell'addizione? Proprietà commutativa. In un'addizione la somma non cambia se si cambia l'ordine degli addendi. Proprietà associativa. In un'addizione la somma non cambia se a due o più addendi si sostituisce la loro somma. Esistenza dell'elemento nautro. La somma di qualunque numero è zero e il numero stesso. La somma di qualunque numero è uno. La somma di chiudica nessuna. La somma di chiudica nessuna.